Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Il traffico è al momento regolare su strade e autostrade della Toscana. Fipilì, possibili disagi per lavori all'altezza del turbone tra Montelupo e Ginestra nelle due direzioni. Sempre in Fipilì questa notte, in orario 22.06 per lavori di asfaltatura, segnaliamo la chiusura della carreggiata tra gli svincoli di Pisa Nord-Est e Pisa Aeroporto in direzione Mari. Ci spostiamo sull'Aurelia. Da quest'oggi, 22 aprile, partiranno interventi di risanamento in un tratto di circa 3 km dal km 271 al km 268 in direzione nord tra gli svincoli di La California e Donoratico. Il transito sarà sempre consentito a doppio senso di marcia sulla carreggiata opposta. Il completamento dei lavori è previsto entro il 22 di maggio. Muoversi in Toscana Infi è un servizio in collaborazione con la Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto. Buon viaggio! Grazie a tutti!